La campagna e con orgoglio questa mattina raccontiamo un pezzo di umanità di questa regione che si chiama Papusciello. Da quanto tempo frequenti i TikTok, i social? Da quando? Da molto tempo? TikTok quasi due mesi. Però subito è sfondato. Quanti seguaci hai? Mi pare 20.000. TikTok sei quasi sui 7.000. Che so tanti, no? Che so tantissimi. Mentre su Instagram siamo oltre 19.000. No, 2.000. 20.000? 20.000. Ma quelli adesso cresce. Dopo questo programma vedrai quante richieste. Control. Allora, come ti trovano? Papusciello? Papusciello. Allora, andate ad aggiungere. Papusciello ufficiale. Ah, perché c'è pure qualcuno che fa un pozzotto. Eh. Eh, vabbè. Senti, ma perché tutti quanti mi chiedono qua? Gianni, falli dire i numeri in francese. 1, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 1, 6. Vabbè, ma qua siamo di fronte al papuscellese. Non è, non è più neanche questa è una tua proprio lingua perché poi uno dice Francesco, cominci con Juan. Lina ti passo papusciello, vai. Papusciello. Sì, buongiorno. E dove sei? Sì, sono Lina, la mamma di Giovanni. Lina Martinelli. Un bacione. Tutto bene? Sì, e tu? Sì, tutto bene. L'hai trovata la ragazza? Occhio castagna. Ancora no, ancora singoli. Che è questo occhio castagna? Capelli castagna, occhio castagna. Ah, tu scecchi una donna con gli occhi castagna e capelli castagna. Signora Lina, ma voi siete di Torre Annunziata? No, io sono di Castellammare. Lui mi conosce, è venuto a casa mia. Ah, ma dico bene che è un bravo ragazzo o mi sono sbagliato? Sì, è un bravo ragazzo, papusciello. Eh, perché poi so che fa tante cose per le persone che non possono mangiare, che hanno difficoltà. Ma ci fa preghiera una cosa. Sì, sì. Perché lui non fa una preghiera in diretta? Una preghiera alla Madonna della Neve? No, è la Madonna. Perché tu sei molto... Perché tu frequenti la parrocchia, no? Sì, sì. La parrucchiella. Eh, la parrucchiella si chiama? Eh, come si chiama? Il prete don... Don Pasquale. Don Pasquale. Eh, ma perché lui è bravo a pregare? Sì, perché non la fa fare, è una preghiera. Eh, e allora... Allora, qua mi segnalano che il profilo di papusciello in questo momento è sovraccarico. Cioè, stai ricevendo tante di quelle richieste, tanti di quei seguaci che è in tilt in questo momento. Grazie, Lina. E mi chiede un bacio grande a papusciello. Sì. Va bene. Grazie. E saluto a tutta la famiglia. Sì, fino a tutti. Va bene. Ma tu sei mai stato fidanzato? Eh, tre o quattro volte. Eh, perché è finita? Eh, perché a me piace l'allegria. L'allegria. Erano tutte tristi queste qua, erano un po' malinconiche. No, erano un po' malinconiche. Sposare, questa, tre in casa. Ah, tu non ti vuoi sposare? Escemo ancora presto. Ma come presto? Quanti anni tiene? 42 anni. Eh, presto. E che vuoi fare un figlio quando si invecchia e non viene muovere? Papusciello, scusami. Eh, ma a me mi piace la vita, è già stata a Shamashake. Eh, a Shamashake? Sì. Da solo o con una donna? No, gli amici. Con gli amici? Sì. E lì hai... Sì, ho trovato una Russia. Eh? Pure a lei ho corteggiato, andiamo a fare un'amicizia. E come è andata? Andiamo a fare il bagno, andiamo a fare l'escursione, l'escursione, come si dice? L'escursione. Sì, non ti preoccupare, sai parla tu, perché noi non abbiamo nessun tipo di... Di pregiudizi. Sai, qua parliamo di arte, parliamo di politica e poi parliamo anche di papusciello, perché i fenomeni sono sempre da raccontare, da spiegare, perché se 150.000 persone, solo sul mio profilo, vanno a visualizzare quello che tu hai fatto con la svedese, beh, c'è qualcosa che bisogna andare avanti. Ah, eh, eh, certo. Allora abbiamo ancora Francesco per te, il centralino, ve lo voglio dire, è in tilt 081636363 per parlare con papusciello. Vai Francesco, te lo passo. Antonio, buongiorno. Ciao Francesco, di dove sei? Di Dore del Greco. Un bacio di Dore del Greco. Ma allora questa ragazza con l'Otti Castagno la troviamo, sì o no? Piano piano la troviamo. Io ti seguo tutte le sere, ti seguo, sia su Instagram, sia su TikTok, con Enzo. Ma perché, che fa tutte le sere? Io sto scoprendo oggi, papusciello, che fa Francesco, Antonio? Papusciello è in diretta, quasi tutte le sere, su Instagram o TikTok, in cerca di ragazze. No, ma allora la cerchi. Ah, ma tu ne cerchi tante. Ne cerchi tanti, fanno un'amicizia a tutti quanti di noi, a starmi insieme, perché è tornato questo virus, a fare tutti quanti in casa, in casa. Ci ha attirato un po' su di morale in questo momento. E immagino. Ha fatto un'allegria bellora, stai tutti quanti in casa, attresi a mezza la strada. È giusto, perché non possiamo uscire, per cui dopo le dieci, coprifuoco, c'è papusciello, che è un appuntamento, vedo per molti, importante, ti seguono. Allora, Diego 81 per papusciello, vai Diego, vai. Ciao, papusciello. Ciao, dove sei Diego? Ti sto seguendo da Pisa, tutto bene? Sì, tutto bene, come vai? Mi fa piacere? Stai facendo dei video su Instagram? Sì, ti tocca. Ah, comunque sei il numero uno. Va bene, grazie, un bacione. Mi ricordi i tempi di Campofronca? Eh, la cec di Campofronca, è una cec americana. Ah, pure là vai? Sì. Ma proprio tu non ti fai resta guieta, insomma. No, io... Cioè, sei re dei social. I social. Ti piace molto. Sì, sì. E se ero uno che voleva metterti in mezzo, voleva pigliarti per il culo, sai, devi stare attento perché c'è tanta gente cattiva in giro che non... Io non faccio male a nessuno, mi comporto bene. Bravo, 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 bravo. Così devi rimanere così. Senti, una preghiera la vorrei sentire, breve se ce l'hai. Voglio fare un saluto a mio maestro Bambolino. Eh, Enzo? Enzo Bambolino, un bacione. Eh, lui ti ha insegnato a fare le dirette? Sì, ma lui, perché ho fatto una diretta, ho trovato una giornata intera, lui... Ma dai, cioè ti ha fatto un corso intensivo di come si fa... Lui è bravissimo, lui. Lui ha trovato una richiesta per lui, su computer. Scusa, Antonio, ti fa piacere, ho fatto una diretta stasera. Dai, che bello, sono contento. Sì, sì, ma gli sei. E tu, ho detto, il mio numero di telefono ho trovato lui. È così, prima hai parlato. E ho fatto una amicità. Ma io lui gioca, non c'era molto tempo sui carabinieri, ho già ricambo fra... Ah, ho sempre questa chat americana che conosco dopo. Sì, quasi 13 anni. Va bene. Un bacione, Enzo. Ma mica pensi di diventare un cabarettista? No. Ah, bravo. Ok, e mi raccomando, se ti chiama Barbara D'Uzzo, dille di no. No, 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 no. Dille di no, perché quella là, lo sai come fa? No, è il mio pensiero, voglio andare al grande fratello. E beh, questo già, secondo me, è già più... È il mio pensiero, fino alla morte. Eh, ma perché ti piace? È perché mi piace proprio come si insegna. Ok, e noi faremo tutti insieme, sono sicuro, tutti i tuoi fan scriveranno a Signorini, a Mediaset, per averti al grande fratello. Sì. Grazie davvero, ho conosciuto una bella persona. Speriamo di rivederci, speriamo di rivederci, Antonio. E rimani come sei, non lasciarti infinocchiare da nessuno. No. E manager e serate... No, no, no. No, no, no. Me raccomando. Questo cielo è per tutto. Rimane papuscella così, perché se papuscella diventa una cosa, a noi non ci piace più. Va bene. Ok? Grazie. Ti vogliamo bene. Ciao.